Salve amici del Centrometrio Italiano. Prossimi giorni con aria più fredda in arrivo, ma pochi fenomeni. Crescono le probabilità per un'intensa fase di maltempo a seguire. Situazione sinottica che nei prossimi giorni vedrà un anticiclone espandersi verso l'Europa centrale, mentre una circolazione depressionaria resterà attiva sui settori orientali del continente. Un modesto a flusso di aria più fredda continuerà a interessare la nostra penisola, portando valori al di sotto delle medie anche di 5-7 gradi, specie da mercoledì. Poche comunque le precipitazioni che dovrebbero riguardare soprattutto le regioni del sud e più sporadicamente quelle del centro. Guardando più avanti, ecco che il modello GFS propone un importante peggioramento meteo a partire dall'ultimo weekend di settembre, con piogge intense soprattutto al centro nord. Un po' diverso il modello europeo, ma che comunque conferma possibilità di estese piogge autunnali dal weekend. Trattandosi di tendenze, seguite allora tutti i prossimi aggiornamenti, sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.